Inizierà a stretto giro la colonia estiva a beneficio dei bambini tra i 5 e i 10 anni a Gioiosa Marea. Secondo il progetto proposto dall'assessore alle politiche sociali Tinder alla Galia, saranno impegnati in attività ludico-educative e sportive che verranno effettuate sia nei locali della scuola primaria di Via Giuseppe Natoli Gatto quanto in spiaggia. Il termine per presentare la domanda è scaduto e se si dovesse registrare un elevato numero di richieste, verrà data priorità ai minori con problemi cognitivo-comportamentali, già seguiti dai servizi sociali del comune, e ai bambini che presentano difficoltà relazionali segnalate dalla scuola e a quelle appartenenti a famiglie a basso reddito. In coincidenza con l'attivazione della colonia e soprattutto dell'apertura delle strutture turistico-ricettive e recreative, l'esecutivo di Ignazio Spano ha firmato un protocollo d'intesa con l'Associazione di Volontariato Rangers International, delegazione di Gioiosa Marea. Fino al 31 ottobre prossimo saranno impegnati in questi settori protezione civile, responsabilità della funzione di volontariato nel piano comunale di protezione civile, controllo del territorio in collaborazione con il servizio di Polizia Municipale, che ha personale insufficiente ed in collaborazione delle attività finalizzate allo sviluppo socio-economico ed in particolare turistico e sportivo. Interverranno anche per il servizio di prevenzione incendi e per il servizio di viabilità, sia per l'istituzione dell'isola pedonale e anche delle processioni, feste religiose e delle numerose varie manifestazioni estive che si terranno negli spazi pubblici ed all'aperto. L'esecutivo corrisponderà ai Rangers a titolo di rimborso spese e una sovvenzione di 1.500 euro.